E' arrivata in Parlamento la lista dei 30 commissari straordinari previsti dal cosiddetto decreto sblocca cantieri cui spetterà il compito non facile di assicurare la realizzazione delle grandi opere italiane in tempi certi. Si tratta di 59 opere strategiche per un valore complessivo di oltre 60 miliardi che rappresentano il cuore del piano che il nuovo governo dovrà presentare a Bruxelles per accedere ai fondi del Recovery Fund. Il lungo elenco comprende 15 opere stradali, 16 opere ferroviarie, 12 interventi per infrastrutture idriche, un intervento per il trasporto rapido di massa, 3 opere per i porti e 12 interventi di edilizia statale. Il piano delle grandi opere punta ad adeguare l'Italia agli standard europei. Quasi un quarto del totale delle denunce di infortunio e circa un terzo di quelle con esito mortale pervenute lo scorso anno all'INAIL sono legate al Covid-19. È quanto riporta il documento dell'Istituto sull'andamento degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali. Sui dati complessivi nel 2020 si è registrata una diminuzione del 13,6% delle denunce, pari a 87.000 casi in meno. A influenzare la flessione è stato solo l'andamento registrato nei primi nove mesi del 2020, mentre nell'ultimo trimestre si è registrato un incremento delle denunce del 9,1% rispetto all'analogo trimestre 2019. Ammontano 2,7 milioni le domande di adesione alle moratorie sui prestiti per un valore di circa 300 miliardi di euro. Toccano invece quota 136,8 miliardi le richieste di garanzia presentate al Fondo di Garanzia per le PMI, per i nuovi finanziamenti bancari destinati alle micro, piccole e medie imprese. Questi sono i principali risultati di una rilevazione della Task Force per l'attuazione delle misure a sostegno della liquidità adottate dal governo per far fronte all'emergenza Covid. I finanziamenti concessi attraverso Garanzia Italia arrivano a 21,2 miliardi per un totale di 1.498 operazioni, di cui 1.491 semplificate e 7 ordinarie. Il lavoro agile si è imposto come nuova frontiera della contrattazione aziendale insieme alla salute e alla sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori. È quanto emerge da un focus realizzato dall'osservatorio area contrattazione CGL e dalla fondazione di Vittorio, nel quale si analizzano 326 intese, firmate per la maggior parte tra marzo e settembre 2020. La contrattazione è quasi tutta incentrata sul tema della sicurezza e della salute e delle relazioni sindacali. A seguire l'organizzazione del lavoro, con interventi volti al distanziamento individuale e alla contrattazione dello smart working. Il 46% degli accordi è focalizzato poi sull'orario di lavoro, rimodulato in base alle misure di prevenzione.